Maria, Eugenio e Giovanni sono i tre nipoti diretti dell'ingegner Miozzi. Un pensiero a testa, una memoria a testa. Cominciamo con Maria. Allora, mia madre era la figlia di Eugenio Miozzi e ci ha sempre fatto capire che il nonno era un genio, però aveva anche un caratteraccio. Non si poteva contraddirlo. E noi siamo un po' cresciuti guardandolo, apprezzando le sue opere, però stando anche sempre molto attenti a non contraddirlo. Devo una soggezione incredibile. Questo non c'è male. E poi ho dei ricordi più da ragazzino quando si andava a pranzo da lui, come puliva le cannocce. E' una cosa incredibile. Io non ricordo, appunto, quando il nonno è mancato, io ero ancora al liceo e lui riusciva a tradurmi le versioni di greco e latino senza consultare il vocabolario. Ecco, ricordiamo a tutti che il nonno è sepolto a Oronzo al cimitero di... Villa Piccola. Villa Piccola.